Nell'organigramma. Scusi, ma lei sa cos'è l'organigramma? Sì o no? Sì. Sì? Allora me lo dica. Adesso. Adesso. Non si potrebbe magari... Adesso. Di fronte a tutti. Di fronte a tutti. Allora, un momento. Dunque. Forza. Vado, eh. Dunque. Dice, signor. Dice, signor. Organigramma. Organigramma. Sì. Una... Di dove c'è la porticina, si entra e li mettono la porticina. Sì. So, poi... Si siedono... Ah, no! Sì, sì. C'è uno che... E' uno di quelli animali da pelliccio. S'ha la corda. L'organigramma è il quadro del nostro corpo. Venga, che l'aiuto a sale. Scusi. Cos'è, il pezzetto? Vuole che gliela cambi la gamba. Guardi che in magazzino ce ne sono di nuovo. Vada, vada. Va bene.